La genitrice, il padre e l'antico normanno, vivo manterranno l'illustre splendore. Dei resti immortali custodi saranno quel giorno in cui la fine coglierà sul flore. A Put Portam Ferream si compierà il presagio nel mezzogiorno del secolo e del regno. Sudditi e fedeli si inchineranno ad agio e mai successore ne sarà più degno. Riccardo, prima di tutto, auguri passati. Vi ringrazio, ma è stato anche un pensiero. Siete molto gentili. Pensierino, piccolo. No, ma non dovevate essere una trusse. No, il regalo è dentro. Ah, è dentro? La trusse è mia. Presenze che chiamano e quando, e quando il Signore chiama. Ah, come non rispondere alla sua chiamata. Hello, it's me. Mi chiamano Stupormundi. Che il mondo si stupisca. Ancora la predizione. E Federì, non te l'ha detto la predizione. Che cosa? Dove so signore! No non rispondere alla sua chiamata. Grazie.